Il questore di Caltanissetta ha emesso quattro decreti applicativi di misure di prevenzione, nello specifico tre fogli di via obbligatori e un avviso orale nei confronti di quattro persone di età compresa tra i 29 e i 39 anni, già note alle forze di polizia per i loro precedenti e per il fatto di accompagnarsi a soggetti pregiudicati. Si tratta di quattro cittadini italiani nei confronti dei quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano abitualmente dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. Un 29enne è stato avvisato oralmente a tenere una condotta conforme alla legge poiché la divisione polizia anticrimine della questura di Caltanissetta ha rilevato i precedenti per spaccio di droga. A un 38enne originario della provincia di Catania è stato invece ordinato l'allontanamento dal comune di Caltanissetta con il divieto di farvi ritorno per un periodo di tre anni poiché lo stesso è stato arrestato in flagranza dalla squadra mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Analogo provvedimento di foglio di via obbligatorio è stato emesso dal questore nei confronti di due 39enni su proposta del reparto territoriale dei carabinieri di Gela facendo loro di vieto di fare ritorno nel comune di Mazzarino poiché controllati dai militari della stazione mentre commerciavano prodotti falsi.